Dalla mia finestra incorniciata di sole liberamente osservo il mondo amato e sogno fuori nei beati spazi, o antico profumo dei tempi di fiabe. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. A torno agli anni venti del novecento approda a una tecnica moda che viene chiamata dodecafonia. E' una tecnica compositiva che garantisce alla musica il fatto di essere attonale, cioè di non poter percorrere i termini della tonalità. In estrema sintesi, voi sapete che le note sono dodici, mi fa solo esempio i cinque tasti neri per intenderci del pianoforte. Bene, queste dodici note sono usate anche da Chopin, da Mozart, tutti i compositori. ma nella tonalità non si possono usare le stesse note se prima non sono state eseguite tutte le altre. È una specie di uguaglianza, diciamo, di tutte le altre. Ma non ce n'è una più importante delle altre. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.